E' bello amare il calcio. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Amici della Serie A Team, buonasera da Federico Zanone, benvenuti a Napoli-Atalanta. Partita che vale la seconda giornata di campionato. E' tutto pronto, manca l'ok di Di Bello. Arriva ora, è iniziato il match, primo pallone gestito dall'Atalanta. E insegne, altro pallone gestito male da Lorenzo Zinni con un'altra chance. Riesce a trovare Mertens in area di rigore. Mertens con il sinistro, Berisha, la tiene a terra. Primo vero squillo del Napoli al minuto 11. Gomez, colpo di tassa di Cristante! E' avanti l'Atalanta con Cristante, 1-0. Cambia il risultato. Ancora una volta Napoli incerto, da una situazione da calcio piazzato. Goulam Accelera Goulam E le cross per Cagliecon! Gossens con un straordinario intervento difensivo. Masiello Grande prova, qui recupera un buon pallone. Gomez si accentra, un orizzontale da Ilicic. Prova con il destro, Reina! Sceglie i pugni, mette in calcio l'angolo. Lo spasso per Petania con il tacco prunga. Masiello! Palla che rimane lì! Cipro Mattoloi, non è finita! Palomino per tre volte! Respinta l'Atalanta! Ilici c'è. Gomez è. Il cross per Atteburg che si infila. Colpo di testa a Reina con una mano. Albiola allontana. Via! Si riparte, è iniziato il secondo tempo. Ilicic, sterza sul sinistro. C'è anche Froler. Ilicic calcia! Non trova i pali di Reina. Senza deviazione il sinistro di Ilicic. Goulam con la traiettora ad uscire a cercare Amsic. Svetta Palomino. Zielinski se la porta avanti con l'impianto e calcia! È una magia! Quella di Zielinski! Il Napoli trova il pareggio! Spettacolo puro! Al San Paolo! Uno a uno! Ilicic c'è. Froler servito. Va sul destro. Il cross per Cristante! Ottimo inserimento. Colpo di testa fuori. All'Anna l'alza per insegne. Colpo di testa per Mertens! È tutto buono! È tutto regolare! Mertens sorpasso Napoli! La reazione della grande squadra! Mertens trova il gol numero 51. Gomez raddoppiato da All'Anna salta a maggio il cross per Kurtic. Palla sul sinistro. Calcia a Kurtic! Sfiora solo la rete esterna. All'Anna fa correre Cagliacone che è in posizione regolare. Mertens supera di posizione. Segue in signe. Cagliacone va da Mertens. Prolungo per Rogue! Che la chiude! 3-1 Napoli! La prima gioia del campionato di Rogue! Arriva la parola fine! Vince Napoli 3-1! Grazie a tutti!